www.feyyaz.com Mi sono tenuto la fronte, che me la do per oeste, se vogliamo un taglio, qualche volta per fare un po' fredda. Ma io io sei qua, eh. Grado con sempre assieme. Sì, come on, love me, come on, love me, come on, love me, come on, love me. Comunque, forse, scusa, noi non saliamo con gli stagini. Camillo. Tutti ilvero mati, non ci si non c'è, non c'è solo. Ha, ho, ho. Un'altra gente, tu l'hai, tu l'hai. Un'altra gente, tu l'hai! Un'altra gente. Un'altra gente. Siete su YouTube, sorridete, non piangete. Non piangete, non piangete. Siamo nei pressi di San Benedetto del Trovo. Bello! Bello! Andiamo a scalare. 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 A posto, Bossica non si è schiantato. Eh? Bossica non si è schiantato. Andiamo a scalare. Andiamo a scalare. Andiamo a scalare. Andiamo a scalare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.